Allora ancora una mail, il nostro amico Emanuele da Torino parla di Chiellini, della prova tv e di questo famoso codice etico e dice se per esempio Pirlo impazzisse all'ultima giornata ad essere un cazzotto a un giocatore del Cagliari cosa farà Prandelli? Dice trovo questo codice etico una cosa ridicola, viene applicato solo quando conviene, l'abbiamo detto tante volte a Balotelli per esempio su Balotelli non è mai stato applicato. Sì, adesso ha fatto di nuovo una nottata a Balotelli con Rissa eccetera quindi e poi comunque a me sembra che tra i convocati ci sia anche Destro, a quel punto allora anche Destro non doveva essere convocato dopo. Ma infatti non ha molto senso diciamo, sarà che non amo tanto Prandelli quindi e poi la penso un po' con l'amico di Roma che dice che insomma per me la nazionale è morta nel 2006 questa è la nazionale della FGC quindi spererei che i giocatori della Juventus non venissero mai convocati ma chiaramente sappiamo che non è così. Esatto, esattamente. Poi un altro amico ci parla del lancio di banane a Bergamo insomma l'altro giorno dice mi auguro che la persona responsabile del gesto venga identificata e bandita a vita dagli stadi, la sanzione di punire tutto un settore con la chiusura dello stesso la trovo ingiusta No, questo è giusto perché in un settore è talmente vasto che non è che possiamo controllare quello che è a 30 metri da me Esatto, ma poi anche il discorso mi dice, è un po' come anche i cori discriminatori qualcuno li fa, qualcuno no, insomma non ha senso punire tutti anche se lì è ancora diverso perché i cori sono, l'abbiamo già detto tante volte un conto è uno striscione che lo devi preparare, ti devi metterli, è un conto è un coro che sai tutti assieme parte lo sappiamo insomma e benissimo, niente, allora speriamo che la Juventus vinca io sono tre anni che faccio TV, sono tre anni che la Juve vince, vedete un po' voi Continuiamo Esatto, esatto Io l'ho detto, poi non lo so Conti ha risato, eh Esatto, grazie a tutti dell'affetto, fino alla fine forza Juventus Forza Juve Ciao